Ola amico e amica, come stanno ueone? Sono il Benny e lo voglio invitare per una promozione più barata che la ciuccia, è un wild cider, un prodotto tremendamente ricco a un prezzo molto barato, così che non sia un ueone, lo deixo invitato e comprate, amico mio, se non vale tutto. Calla!